Ciao a tutti, benvenuti. Questo breve video per farvi i miei cari auguri di buon Natale, di buone feste e di un buon nuovo anno. Un augurio che possa essere un anno per voi veramente di serenità, di salute, di gioia, ma anche di forza, che possiate avere sempre la forza e la speranza per affrontare al meglio le sfide della vita. E è un augurio che tutti voi possiate sempre riempire la vostra vita con la meravigliosa musica, con il meraviglioso canto. Vi mando un saluto e a presto. Ciao!